La mia malattia Ho ucciso troppi comunisti per questo Ci sono molte creature che girano qui intorno Spiriti Uai, ma sei tu Una volta che anch'io sarò morto Dove sarà che il mio spirito dovrà andare a cercarti? Forse in paradiso Il paradiso è sopravalutato Non c'è niente là I fantasmi non sono legati ai luoghi Sono legati alle persone Non mi è rimasto più molto tempo Sei eccitato? O hai paura? No 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 Grazie a tutti